La comunità mi dà fiducia ancora, ci dà fiducia con una squadra rinnovata, con una squadra di esperienza, di competenza. Sappiamo di potercela fare, pure nelle difficoltà delle comunità, perché l'esperienza sicuramente sarà messa al frutto, al meglio, per poter dare a Canino una nuova rinascita. Canino ricomincia e ricomincia da noi. La prima cosa che mi viene in mente è dare risposte a tutti coloro che hanno dato dei suggerimenti. Quindi nel nostro programma ci sono veramente dei punti significativi, a partire dall'agricoltura, all'ambiente, al turismo, ancora attività produttive, ma soprattutto la possibilità di far partecipare i cittadini alla vita democratica, il controllo, il servizio e il sostegno a tutti coloro che chiedono risposte dal comune, dall'ente locale. E noi saremo in grado di poterlo fare. Va bene, va bene, va bene, va benissimo, è stata complicata e troppo, però va bene così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.